La Sardegna punta sul mercato delle vacanze proveniente dagli Stati Uniti, che negli ultimi due anni è divenuto uno dei più interessanti e in crescita. Per assecondare questo nuovo trend, l'assessore del turismo Franco Cucureddo, in collaborazione con la sua collega dei trasporti Barbara Manca, sta pensando ad una connessione aerea, un volo diretto dalla Sardegna agli States. È il mercato che è in crescita esponenziale, abbiamo avuto oltre il 35% di crescita nel 2023 rispetto al 2022 in termini di presenze, quindi un mercato che sta esplodendo, ma la cosa più significativa è che è un mercato molto motivato, oltre che essere altospendente, perché per raggiungere la Sardegna prendono tre voli mediamente, più di tre voli di media, e quindi stiamo lavorando per far elaborare questi dati e far capire l'interesse che c'è degli americani verso gli Stati Uniti, alle principali compagnie aeree del mondo, perché speriamo che nel corso del 2026, d'intesa con l'assessorato al turismo che sta per bandire un importante bando che sostiene i costi aeroportuali in partenza e in arrivo, possiamo avere un volo diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti. E i turisti provenienti dagli Stati Uniti chiedono emozioni, viaggi, esperienziali, e la Sardegna sicuramente saprà accontentarli, tra passeggiate in mezzo alla natura, visite misteriosi inuraghi, percorsi enogastronomici e naturalmente spiagge da sogno. È un mercato di gamma abbastanza importante, quindi attenta ai servizi, attenta alle esperienze, è un mercato che punta molto sul turismo esperienziale, alcuni di questi per esempio ci hanno chiesto di inserire all'interno del loro tour le interviste con i centenari, quindi le Blue Zone sono uno dei prodotti per cui manifestano interesse, tanto per dare una curiosità.